231 mila euro per le imprese danneggiate dalla chiusura del viadotto Puleto lungo la E45 sotto sequestro dallo scorso 16 gennaio. A stanziarli la regione toscana al fianco delle ditte di Pieve Santo Stefano e Sansepolcro. Sono state infatti valutate le domande di finanziamento presentate dalle aziende che hanno risposto al bando regionale e sono stati così assegnati a sette realtà che hanno dimostrato rilevanti diminuzioni di fatturato causate dall'interruzione al traffico dell'infrastruttura risorse che vanno dai 7.045 mila euro. È stato firmato il provvedimento che stanzia questi contributi, ha detto il presidente della regione Enrico Rossi a dimostrazione del fatto che le nostre non erano promesse vane. Attendiamo adesso che anche il governo porti avanti gli impegni assunti con il territorio. Siamo al fianco dei sindaci, è giunto l'assessore regionale e all'infrastrutture Vincenzo Ceccarelli per la richiesta rivolta al ministro Toninelli di veder partire velocemente i lavori di riapertura della Tiberina Trebis e perché, conclude, si possa riaprire il viadotto Pulieto anche al traffico pesante. L'infrastruttura, infatti, lo scorso febbraio era stata riaperta solamente al traffico leggero. Ancora oggi, a cinque mesi dal sequestro, resta lo stop per camion e tir. I lavori di manutenzione previsti da Anas, necessari per un'eventuale riapertura totale, sono infatti al momento congelati in attesa che venga completata la perizia dell'esperto incaricato dalla procura di Arezzo, il professor Claudio Modena. Spetterà a lui stabilire se il viadotto sia o meno a rischio cedimento e se ci siano delle responsabilità riguardo all'omessa manutenzione da parte di Anas, accusa che vede indagati cinque funzionari dell'azienda.